amici di battista 70 phone oggi vi presento oppo reno 12 fs un terminale dal costo interessante parliamo di 349 euro al momento sul sito oppostora nel 349 euro compreso se lo volete ovviamente caricatore super voc da 45 watt e aggiungendo 999 oppo band 2 ed altre 999 le oppo enco free 2 le cuffie non le dovete comprare tutte potete comprare sia una che l'altra oppure comprarle entrambi ad un prezzo decisamente molto interessante il processore che muove questo terminale è una mediatek 6003 e abbiamo ben 12 giga di ram e 512 giga di memoria interna per cui anche qua voglio dire la dotazione è davvero molto ma molto interessante per cui vi dicevo prestazioni assolutamente di buon livello per quanto riguarda il terminale aggiungerei anche che è stato costruito in maniera molto solida ha superato vari test di flessibilità e anche di immersione in acqua effettiviamo ora una veloce chiamata l'audio è stereo devo dire che di buona qualità ora possiamo portarlo al 200% diciamo che l'audio è buono sia in capsula che in viva voce e anche la ricezione è sempre ben presente e non presenta alcun tipo di problema parliamo ora della fotocamera la fotocamera è una 50 più 8 più 2 parliamo ora della fotocamera la fotocamera è una 50 più 8 più 2 la 50 ha uno zoom digitale 10 per devo dire va beh essendo digitale non possiamo pensare che faccia miracoli però diciamo che se la cava discretamente bene la frontale è una 32 megapixel insomma qualche difettuccio ce l'ha anche qua ha esagerato un po' con l'effetto bellezza il mio modo di vedere qui abbiamo girato un video qui sotto la macro devo dire veramente bene si è comportata bene soprattutto in queste condizioni anche la grande angolare non distorce per cui non male abbiamo provato uno zoom veloce e non se la cava malissimo diciamo no anzi direi che va abbastanza bene qui abbiamo fatto varie foto poi in esterna qui devo dire che la definizione è molto buona questa sì questa invece ha perso un po' il fuoco è andato a prendere dietro qui abbiamo girato poi un video mentre stavamo grigliando a 40 gradi non vi dico la sofferenza in ogni caso il video non è assolutamente male e qui delle foto in notturna devo dire che in notturna insomma un po' fa fatica diciamo una fotocamera tra luci e alla fine in conclusione che ci ha abbastanza convinto diciamo qualche luce d'ombra sulla parte fotografica sono sincero non è il miglior oppo per quanto riguarda la fotografia che abbiamo trovato soprattutto quando cala la luminosità e insomma come avete visto qualche problemino sorge però nel complesso alla fine ripetiamo ha un buon prezzo è comunque dotato di parecchia ram e parecchia memoria interna per cui fondamentalmente non è male poi comunque il design secondo me è anche abbastanza estivo e passatemi il termine fresco per cui fondamentalmente è un terminale che ha un suo perché con questo concluso un saluto da Loris e da Lucio per Battista 70 FON per cui fondamentalmente non è male